Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con gli uomini della sua vita. Flavio Briatore è la sua famiglia, ma nella sua vita c'è un altro uomo. La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci in una recente intervista ha parlato della sua famiglia allargata e del rapporto con gli uomini della sua vita. Ad oggi Flavio Briatore rimane la sua famiglia, insieme al figlio Nathan Falco, ma nella sua vita c'è un altro uomo che è il suo fidanzato, Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci, la visione sugli amori della sua vita, Flavio e Giulio. Elisabetta Gregoraci, nonostante non è più al timone dello show musicale Battiti Live, non si dà per vinta. Tra poco partirà con un nuovo programma Rai intitolato Questioni di Stile. Prima dell'inizio del suo nuovo show si è raccontata in un'intervista al settimanale, chi ha rivelato come vive la sua vita sentimentale, segnata dall'amore per tre uomini molto diversi tra loro. In molti si chiedono ancora che rapporto ci sia tra la showgirl calabrese e il suo ex marito, l'imprenditore Flavio Briatore. Nonostante il divorzio nel 2017, i due continuano ad avere un rapporto molto complice, e spesso sono insieme per il bene del figlio Nathan Falco. Elisabetta molto spesso si reca in vacanza nel resort di cui l'ex marito è proprietario. Non si è negata di ritrovare l'amore e da qualche anno è legata a Giulio Fratini, imprenditore di 31 anni. La conduttrice ha risposto alla domanda in merito a come fa a mantenere entrambi i rapporti nella sua vita. Flavio Briatore è la mia famiglia, l'uomo che è stato accanto a me per una vita. A volte mi fa prendere degli spaventi, ma adesso sta bene. Non sta mai fermo. È uno che dice sempre quello che pensa. Quando l'imprenditore del billionaire ha avuto un tumore benigno ed è stato operato d'urgenza, infatti, al suo fianco c'è sempre la Gregoraci. Col suo fidanzato Giulio Fratini, invece, la relazione sembra andare avanti a gonfie vele da ben due anni, anche se la showgirl non si è sbottonata ulteriormente. Da questo punto di vista sono noiosa, va così da due anni, ha svelato. Sulle presentazioni in famiglia, in particolare col figlio di 14 anni Nathan Falco, sembra andarci piano. È ancora presto per parlarne. È un passo che va fatto con i modi ai tempi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti della mia vita che rifanno già parte che già convivono. La mia relazione e la mia famiglia è la mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia è la mia famiglia.